Come state? Ben ritrovati, un saluto a tutti. Vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un like e di iscrivervi qui se non avete ancora fatto, attivate la campanella. Una buona domenica a tutti, dopo un sabato sicuramente significativo che ora porta però a delle novità su Rafa Leao. Siamo in attesa del risponso degli esami cui si è sottoposto questa mattina poco fa Rafa Leao. La situazione di cauto ottimismo. Leao intanto non si era fatto male prima come qualcuno ha ipotizzato, facendo anche un po' a dispettire Mr. Piole in conferenza stampa, ma lo ha accusato durante la partita questo fastidio. Sembra si sia fermato in tempo, dopo la partita lui ha tranquillizzato tutti, ha detto non è nulla di grave, è chiaro che però avendo la gara rispetto a ieri dopo 4 giorni, ora tra 3 giorni il margine è molto minimo, quindi ti può bastare un piccolo problema e ti salti la gara di mercoledì. Quindi ora serve il risponso scientifico. Aspettiamo l'esito di questi esami per capire se è solo semplice affaticamento o se c'è dell'altro. Se affaticamento Leao può essere in campo mercoledì, se c'è dell'altro a quel punto diventa difficile. Vediamo se lo screening che lui si è fatto in presa diretta dopo la partita è stato veritiero oppure troppo ottimista. Ripeto, esami che si sono effettuati e adesso aspettiamo appunto che arrivi l'esito, sperando ci possa essere comunicato in tempi brevi. Sono ore decisive per Rafa Leao. E' chiaro che il Milan dipende molto da Rafa Leao. Ha realizzato, pensate, il 36% dei gol in campionato, meglio, ha contribuito al 36% dei gol in campionato del Milan. Più di un gol su tre passa dai suoi piedi, qualcosa significherà. Anche perché in questo momento Giroud sta anche lui convivendo con problemi fisici. Quindi per il Milan è troppo importante recuperare Leao. Speriamo nel prossimo video di darvi aggiornamenti ulteriori, però esami che sono stati effettuati e che ora aspettiamo nell'esito. Cautottimismo, ripeto, cautottimismo. Questo è quello che trapeva anche questa mattina. A dopo.